I seminari del gruppo tecnico Masi sono ormai un appuntamento fisso e molto atteso a Vinitaly. Quest'anno, nella 31esima edizione, si è parlato di vini spumanti e di nuove tecnologie. Il seminario del nostro gruppo tecnico, quest'anno fuori dal tema usuale, è un tema che è però di grande attualità, quello dei spumanti nelle varie versioni ed è affascinante, affascinante la fermentazione in bottiglie, affascinante la fermentazione in autoclave, come il caso del Prosecco, come sempre con un preciso nostro obiettivo, quello di verificare attraverso la scienza se quello che è stato fatto nella storia ha un senso o meno e questo è quello che vogliamo fare. Naturalmente siamo molto contenti di ospitare da 31 anni il seminario Masi. È un seminario a cui io tengo molto perché dà qualcosa in più di valore. Credo che mai come oggi il vino italiano abbia bisogno anche di introdurre qualità scientifica, qualità tecnologica, qualità anche culturale. Una bella intesa, una bella collaborazione che penso possa proseguire ancora per tanto.